Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, è stato assolto dai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Foggia dall'accusa di peculato. Il primo cittadino, finito ai domiciliari a luglio di tre anni fa, dopo pochi mesi dalla sua conferma, era accusato anche di concussione, procedimento archiviato e abuso d'ufficio. Per Potenza resta in piedi solo quest'ultima contestazione, perché secondo l'accusa avrebbe affidato una gara pubblica a un imprenditore a lui vicino per la fornitura e l'installazione delle telecamere di videosorveglianza del comune per circa 1000 euro. L'accusa di peculato, invece, per cui il sindaco di Apricena è stato assolto, era legata all'uso di un'auto acquistata in leasing dal comune per spostamenti privati in maniera sporadica e occasionale, si leggeva nell'ordinanza. Un mese dopo il suo arresto, i giudici del Tribunale del Riesame di Bari avevano già annullato l'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Foggia per assenza dei gravi indizi di colpevolezze delle esigenze cautelari. Potenza è stato rieletto sindaco della cittadina foggiana a maggio del 2019 ed è attualmente in carica.